8 febbraio 1931, nasce James Dean, icona ribelle, raggiunge il successo nel 1955 con il suo primo ruolo da protagonista nel La Valle dell'Eden. Simbolo delle irrequietezze giovanili in gioventù bruciata, l'ultima pellicola in cui lavora è Il Gigante, che uscirà nelle sale nel 1956. Muore a soli 24 anni il 30 settembre 1955 in un incidente automobilistico sulla statale 46 in California.